Sapete come funzionano le piante carnivore? Quelle aperte in questa maniera, dove passa la mosca all'interno, poi si chiudono e la mosca viene digerita viva, quelle cose terribili che accadono in natura. Funzionano in questa maniera. La pianta ha all'interno dei peletti, sono dei sensori praticamente, e nel momento in cui la mosca ne tocca non uno, non due, ma tre, la pianta scatta e chiude la mosca. Perché questo? Chiaramente è un sistema di controllo per evitare di chiudersi, per magari altri motivi, senza la mosca all'interno, gli uomini funzionano allo stesso modo. Ogni uomo ha una sua personale tolleranza a dei comportamenti femminili, li chiameremo fastidi, per usare un termine simpatico, e lasciare che gli haters possano commentare sotto Sei un maschilista! Bravi haters, creatimi engagement. Molto bene. Allora, dicevo, nel momento in cui la donna compie uno, due, tre, quattro, dieci di questi fastidi, a quel punto l'uomo si allontana e fugge via, lontano, verso l'infinito. Ma, visto dall'occhio femminile, è molto diverso. Perché, ovviamente, una donna non sa che cosa potrebbe dare fastidio a quell'uomo in particolare. Le donne non sanno neanche cosa può dare fastidio in generale ad un uomo. Quindi, magari, si rende conto soltanto di uno di questi dieci fastidi. E accadono delle cose particolari. Mettiamo che la donna si renda conto soltanto dell'ultimo dei dieci fastidi che l'uomo ha annotato e ha accusato. Che cosa vedrà? Che, dato che è l'ultimo, l'uomo va via. E quindi la percezione della donna sarà, ma io ho detto una cosa e se ne è scappato. In realtà, l'uomo aveva notato altri comportamenti. Oppure, mettiamo che la donna noti il primo, il secondo, il terzo, il quinto. Poi gli altri, ovviamente, non li nota. Quindi, magari, la donna dice, uh, che bello quell'abito bianco. L'uomo memorizza. Fastidio. Ok. Però, non ne ha ancora accumulati dieci. Quegli altri sette, otto, li accumulerà nel periodo successivo. Ma la donna non li noterà, non si renderà conto che quelli danno fastidio all'uomo. E quindi, a un certo punto, l'uomo andrà via. La conclusione è sempre quella. Ma la donna che cosa percepirà? Di aver fatto qualcosa, magari un mese prima, e poi, a un certo punto, l'uomo è scomparso. È impazzito. Se ne è andato senza motivo. Il motivo, ovviamente, c'è. C'è sempre un motivo dietro il comportamento delle persone. Non di tutte le persone. Alcune sono veramente pazze, ok? Ma tendenzialmente c'è un motivo dietro il comportamento delle persone. Il problema è, semplicemente, che noi non ce ne rendiamo conto.